I CIPIA sono i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Non è mai troppo tardi, verrebbe da parafrasare, tanto per riprendere il titolo di una nota trasmissione della tv in bianco e nero degli anni 60, in cui il mitico maestro Manzi teneva alla tv di Stato un corso per il recupero dell'adulto analfabeta. E in buona sostanza i CIPIA, istituiti nel 2012 dal Ministero dell'Istruzione, hanno proprio questa funzione, offrire ad adulti italiani e stranieri di età superiore ai 16 anni servizi ed attività per l'istruzione in età adulta. Sono molteplici le persone che possono accedervi, chi non ha fatto le elementari ma ha bisogno del titolo di scuola media, stranieri che hanno intrapreso il percorso per conseguire la cittadinanza italiana, chi non ha assolto ai doveri della scuola dell'obbligo. La novità sta nel fatto che da quest'anno anche a Fano c'è una sede dove vengono effettuate le attività didattiche del CIPIA, grazie all'interazione tra istituti e ONLUS, cosa che invece prima avveniva solo nella sede centrale di Pesaro o in altre sedi sparse nel territorio in base alle necessità locali. Il bacino è ampio dal punto di vista della popolazione perché Fano e Pesaro da soli sono 160.000 abitanti quasi ed è ampio nel senso che effettivamente l'utenza è ampia, non soltanto cittadini italiani ma cittadini stranieri e devo dire che da questo punto di vista il CIPIA rappresenta un grande ammortizzatore sociale. Chi necessita di questo tipo di supporto, come fa a contattarvi? Direi che la cosa è molto semplice, innanzitutto può venire nelle tre sedi associate, quindi la Volponi ad Urbino, la scuola Volponi, la scuola Olivieri a Pesaro e l'istituto battistico a Fano. Troverà la segreteria più o meno sempre aperta, ci sono gli orari ma poi può consultare il sito, che è cpa.pesorurbino.it e anche all'interno del sito troverà una piattaforma per iscrizione, quindi si può fare online o direttamente nelle sedi associate, possibilmente all'interno del 15 ottobre. Nel nostro CIPIA qui a Fano ha sede il percorso di istruzione per adulti che ha come finalità l'acquisizione del diploma di tecnico economico, vecchia ragioneria diciamo, offerta che viene data a tutti gli adulti indipendentemente ovviamente dalla cittadinanza. L'associazione Mille Voci nasce nel lontano 2001 da un desiderio di un gruppo di insegnanti proprio di mettersi al lavoro per aiutare le persone straniere che erano qui. All'incirca ruotiamo tra 250 e 300 persone all'anno. Ticoliamo le lezioni in questo modo, abbiamo tre livelli, un livello d'accoglienza che si occupa anche poi di alfabetizzazione, un livello principiante e un livello avanzato. E noi siamo il pomeriggio appunto qui ospiti dell'Istituto Battisti, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 18 alle 19.30. E il mattino invece facciamo solamente tre mattine, lunedì, mercoledì e venerdì, al Cubo a San Lazzaro, dalle 10 alle 11.30.